L'Australian Cattle Dog, Australian Heller, Blue Heller, Australian Kettle Dog, Australian Bougier è una razza di cane allevata in Australia. Origine L'Australian Cattle Dog è una razza allevata artificialmente in Australia, originariamente per guidare il bestiame su lunghe distanze nelle condizioni meteorologiche più difficili del continente australiano. Nel XIX secolo, gli agricoltori australiani avevano bisogno di cani robusti e intelligenti che li aiutassero a guidare e spostare mucche e pecore. L'allevatore di New South Wales Thomas Hall ha incrociato cani collie con cani dingo selvatici australiani, che aveva addomesticato in precedenza. I cani risultanti erano conosciuti, come Heller sed erano ad uso esclusivo di Thomas Hall, e non si diffondevano oltre la fattoria di Hall. Dopo la morte di Thomas Hall nel 1870, l'agricoltura di Al-Kadde in Lovina. Le fattorie nel nord del New South Wales, e nel Queensland, sono state messe all'asta con tutte le loro proprietà e animali, compresi i cani. Sono stati migliorati per molto tempo innestando il sangue di Dalmata e Kelpie. Gli Heller sono stati successivamente sviluppati in due razze moderne. L'Australian Cuttle Dog, Australian Heller, e l'Australian Short-Tiled Cuttle Dog. Gli allevatori americani e canadesi amano molto questi cani instancabili, intelligenti e molto docili. Per la prima volta, i guaritori australiani vennero in America dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono portati con loro da alcuni soldati americani, che prestarono servizio in Australia. Fino a poco tempo, i rappresentanti di questa razza potevano essere trovati raramente in Europa, per la prima volta, i guaritori australiani furono portati in Inghilterra nel 1980. Aspetto esteriore. Cane compatto e forte con buone doti lavorative. La combinazione di forza, struttura armonica, grande agilità e resistenza rendono questa razza unica nel suo genere. La crescita dei maschi, è di 46 al 51 cm, le femmine di 43 al 48 cm, il peso preferito è di 15 al 23 kg. Okra. Blu. Blu, macchiato di blu o macchiato di blu con o senza altri segni. Sono accettabili segni neri, blu o fulvi sulla testa, preferibilmente distribuiti uniformemente. Gli arti anteriori sono ricoperti di abbronzatura al petto e alla gola, con abbronzatura sulle mascelle, segni di abbronzatura all'interno delle cosce fino alla parte anteriore del ginocchio e all'esterno dal metatarso alle dita dei piedi. I segni neri sul corpo non sono desiderabili. Macchietta rossa. Maculatura uniforme su tutta la lunghezza del corpo, compreso il sottopelo, con o senza macchie rosse più scure sulla testa. Sono desiderabili segni uniformi sulla testa, i segni rossi sul corpo, sono accettabili ma non desiderabili. Mantello. Liscio, doppio, con un sottopelo corto e fitto. Il pelo esterno è liscio, duro, aderente, impermeabile. Nella parte inferiore del corpo verso gli arti posteriori, il pelo si allunga e forma delle piccole frange sulle cosce. Sulla testa, compreso l'interno delle orecchie, e sulla parte anteriore degli arti, il pelo è corto. Lungo il collo, l'attaccatura dei capelli, è più spessa e più lunga. Il pelo troppo lungo o troppo corto è considerato un difetto. In media, i peli sul corpo, dovrebbero essere 2,54 centimetri. Orecchie. Di taglia media, piuttosto piccole che grandi, larghe alla base, serrate, erette, moderatamente appuntite, non arrotondate, non pipistrello. Le orecchie sono ben distanziate, girate ai lati, e si alzano, quando il cane è vigile. La pelle è spessa. La parte interna dell'orecchio è densamente ricoperta di peli. Occhi. Ovali, di media grandezza, né sporgente né profondo, esprimendo intelligenza e prontezza. Quando gli estranei si avvicinano, l'espressione degli occhi diventa di avvertimento e sospettosa. Gli occhi sono marrone scuro. Petto. Profondo, muscoloso, moderatamente largo, potente ma non sovrappeso, che permette al cane di muoversi liberamente zampe. Arrotondate, le dita sono corte, forti, arcuate, in un rumo. I cuscinetti sono duri e profondi, le unghie corte e forti. Carattere l'Australian Catle Dog è caratterizzato principalmente dalla sua resistenza e forza, come suggerisce il nome, questa razza è stata originariamente creata per guidare il bestiame, nonché per proteggere i proprietari, e le loro proprietà, compreso il bestiame, nelle condizioni meteorologiche più difficili dell'Australia continente. Questi sono cani devoti al loro padrone, sono intelligenti e arguti, facili da addestrare. Ma, nonostante la presenza di tali qualità puramente professionali, sono anche animali domestici gentili e affettuosi. Come molti altri cani da lavoro, l'Australian Catle Dog ha un alto livello di energia, una mente attiva e un certo livello di indipendenza. La razza è tra i primi dieci in termini di intelligenza.